Ciao a tutti ragazzi, io sono Artunio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi se è tocco il giallo finisce il video. Si, non è una cosa originale da farfano tutti. Tipo sto copiando tutti gli americani. Però non li sto copiando. Non li sto copiando. Cioè ho dovuto fare questo video perché non sapevo che video fare oggi, quindi vi è venuta in idea questa. A caso. A caso. Allora se è tocco il giallo il video finisce. Allora questo non è giallo, questo è beige più o meno. Quindi no, è giallo. Qualcuno scrive nei commenti che è giallo, io mi arrabbio e non gli rispondo, non gli metto il cuoricino. Basta. Ma voi l'avete mai visto una figura rosa? Se forse è toccolo rosa, la perdo avrei già perso. Però no. No, non è rosa. È giallo, quindi. Vai, cominciamo già a farci... la crafting table mannaggia ho sbagliato anche a farmi la crafting table ok ora ci facciamo degli sticks sticks ci facciamo un ascia e un piccone non è più crozza ecco fatto e ci vediamo quando ho costruito qualcosa no il giallo lì no il giallo no io lì se ci vado perdo quindi non voglio non voglio perché non voglio che il video finisce ma anche la lava è un po' gialla quindi io anche se toccò la lava perdo mannaggia zio pepino mannaggia zio pepino poi sono anche su un'isola quindi cioè lo scopo di questo video è che che devo trovare i diamanti i diamonds io già che non c'ho una sfortuna è più probabile che perdi invece le pinci che vinco perché io non trovo mai più avanti e ho per trovarne due e ci metto scusate sono un po' c'ho una malattia strana a caso scherzo scherzo e c'ho un po' di raffreddure però c'è più probabile che io perdo quindi ci vediamo quando io ho fatto la casa molto piccola molto piccola molto piccola però accogliente non si giudicano le cose dalle prospettive non si giudica ah 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 se voi giudicate qualcuno non si fa ah ricordatevelo dal filosofico a Torino ah ricordatevelo vediamo quando sto poco di carbone perché devo andare in minina allora qui non c'è niente di diamanti è meno 50 se è la profondità quindi vorrei andare alla profondità a meno 56 ma io non riesco a mettere le coordinate perché c'ho la c'ho la tastiera scrausa quindi non riesco a mettere le coordinate quindi mi arrangio zio bono mi arrangio eh ho delettato la pietra non fumo niente aspetta ma questo è giallo è arancione però l'arancione è messo dal giallo quindi mi stai dicendo che non è toccato giallo cioè no 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 tecnico vero 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 trovato fiero c'è tecnicamente no tecnicamente poi se è vero mi arrabbio mi arrabbio che il rame non dovrebbe essere giallo dovrebbe essere arancione se oggi era la sfida se hai detto con l'arancione di finisce il video eh no non era questa la sfida quindi no non l'ho perso per mezz'ora per pensare a sta cagato quattro luce poi prendiamo il ferro per prendere il diamante certo dove l'ho visto il ferro dai ah eccolo dai giusto giusto 3 4 4 4 4 5 poi trovo una vena di 6 di ferro ok ok quindi corro normalmente ho ancora toccato il giallo quindi sto bene sto molto bene aspettatelo non lo faccio mai risalire ma questo è un problema che non ci ho pensato io eh se non facciamoci si sa si sa si sa molto bene questa cosa però no noi andiamo avanti qui che io sono risalito dal buco eccoci qui c'è una ah no è la camera ok basta ma questo è giallo sì no no c'è una sembra ma ok